Si è conclusa con il positivo rinnovo dell'accordo con la provincia dello Shandong alla missione in Cina che ha visto la regione Marche come capofila. Sono stati raggiunti accordi di partenariato in diversi settori, commerciale, universitario, scientifico, culturale e turistico. Tutti base importante per lo sviluppo dell'import-export in una provincia di 92 milioni di abitanti e che ospita importanti aziende in settori chiave della nostra economia. Che cosa accomuna la provincia cinese dello Shandong con la nostra regione? e ce lo ha detto il presidente della regione Marche, Gianmario Spacca. Con lo Shandong noi abbiamo un'comunanza di interessi molto forti perché loro hanno acquistato i nostri cantieri navali privati, ovvero quelli del gruppo Ferretti, quindi cantiere di Ancona, cantiere di Fano, Pershing, CNR. Abbiamo cercato non soltanto di avviare rapporti sulla cantieristica ma anche su altri settori. Tra gli accordi presentati dalla missione marchigiana anche quello molto importante sulla meccanica che, ha detto Spacca, ha registrato un forte interesse da parte dei cinesi. Tra i dati più rilevanti presentati in conferenza stampa, quelli sull'esportazione delle marche verso la Cina. Nell'ultimo anno sono cresciuti vertiginosamente i numeri di calzature, tessile e agroalimentare. Quest'ultimo in particolare ha visto le marche protagoniste con molte richieste di certificazione da parte degli operatori cinesi. Un positivo segnale di ricerca di qualità, ha sottolineato il presidente Spacca.